Buongiorno e benvenuti alla rubrica delle frasi motivazionali. Ogni lunedì mattina alle ore 8 e 30 una dose di ispirazione per iniziare la settimana con il piede giusto. La frase di oggi viene pronunciata nel romanzo biografico Da bruco diventerò farfalla della scrittrice Sara Barbaglia in cui viene narrato il suo percorso di crescita lungo e doloroso in seguito ad un disturbo post traumatico da stress e da trauma cranico. La frase è mi rendo conto che non è mai possibile trovare sicurezza e serenità al di fuori di noi stessi. L'autrice ci ha regalato una citazione profonda e motivante che ricorda l'importanza di cercare l'equilibrio interiore, la chiave per scoprire la vera sicurezza e serenità dentro di noi. Spesso cerchiamo la felicità, la sicurezza e la serenità in luoghi lontani da noi stessi. Ci ludiamo pensando che la felicità possa essere trovata in un nuovo lavoro, in una relazione o nella realizzazione di un sogno, ma la verità è che la vera sicurezza e serenità non possono essere trovata altrove se non dentro di noi stessi. La vita è fatta di alti e bassi, di sfide e trionfi, di gioie e dolori e in mezzo a tutto questo è facile sentirsi persi e insicuri. Ma la chiave per trovare la stabilità emotiva e la serenità non sta nel cercare costantemente qualcosa di fuori di noi, sta nell'andare a fondo dentro noi stessi e scoprire la forza e la resilienza che risiedono nel nostro interno. È importante capire che la sicurezza e la serenità non sono state mai pensate per essere doni esterni, non possono essere regalati da nessun altro, ma devono essere create da noi stessi. Questo processo richiede autoriflessione, autoamore e autoaccettazione. Inizia con le riflettere su chi sei veramente. Quali sono i tuoi valori, le tue passioni e i tuoi obiettivi? Cosa ti rende felice? Cosa ti dà un senso di scopo? Una volta che hai chiarezza su queste domande, inizia a costruire la tua vita attorno ad esse. La sicurezza e la serenità derivano anche dalla capacità di gestire lo stress e le sfide che la vita ci presenta. Non possiamo controllare ciò che accade fuori di noi, ma possiamo controllare la nostra reazione, imparare a gestire lo stress, a mantenere una mente aperta e flessibile di fronte alle difficoltà. È essenziale per trovare la serenità interiore. L'autoamore è un altro elemento chiave. Pratica l'autocompassione e trattati con gentilezza. Accetta te stesso con tutti i tuoi difetti e imperfezioni. Quando impari ad amarti incondizionatamente, la sicurezza e la serenità diventano una parte naturale della tua vita. Infine, abbraccia il concetto che la vita è in costante evoluzione. Non c'è un punto di arrivo fisso in cui puoi dire di aver raggiunto la piena sicurezza e serenità. Invece la vita è un viaggio continuo di crescita e apprendimento. Accetta questo viaggio con apertura e gratitudine perché è proprio attraverso le sfide e le esperienze che crescerai e scoprirai sempre di più chi sei. In conclusione, la sicurezza e la serenità non sono mai fuori dalla portata poiché risiedono dentro di te. Guarda dentro te stesso, scopri chi sei veramente. Pratica l'autoamore e la gestione dello stress e abbraccia il tuo percorso di crescita. Quando fai tutto ciò scoprirai che la felicità e la tranquillità che cerchi sono sempre state presenti dentro di te. Grazie a chi ha dedicato del tempo ad ascoltare il articolo motivazionale sulla ricerca dell'equilibrio interiore. Spero che abbia aspirato e motivato ciascuno di voi a riflettere sulla vostra sicurezza e serenità. Per non perdere le novità letterarie e scoprire altre parole motivazionali ti invito ad iscriverti al canale e a condividere questo video con le persone che conosci perché ogni condivisione ha il potere di raggiungere cuori e menti diverse portando speranza e incoraggiamento a chi ne ha bisogno. Grazie mille, grazie di cuore.